Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo all'easy anti cheat su fortnite che non si è avviato assieme al gioco ovviamente è possibile che il nostro antivirus ha bloccato così l'easy anti cheat quindi andiamo un attimo sul nostro sistema protetti quindi il nostro windows defender andiamo su protezione da virus e minacce scendiamo fino a giù fino a trovare così gestisci impostazioni scendi fino a giù fino a trovare esclusioni aggiungi o rimuvi esclusioni facciamo sì aggiungi così un'esclusione andiamo nella cartella andiamo sul nostro disco dove abbiamo installato fortnite 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 game binaris 1.64 easy anti cheat selezioni così la cartella easy anti cheat fai la stessa cosa anche con il balter live quindi fai seleziona la cartella inseriamo così la cartella dell'easy anti cheat come puoi vedere questa qua così facendo l'antivirus non bloccherà più la cartella se avete questo tipo di problema oppure possiamo sempre andare direttamente su epic games andare così nella sua cartella quindi andare nella cartella di fortnite e risolvere e l'easy anti cheat facciamo libreria gestisci andiamo nella sua cartella fortnite game binaris 1.64 easy anti cheat ed eccolo qua questo qua cliccate sopra una volta fatto cancelliamo così questa cartella dell'easy anti cheat battle eye chiudiamo qua gestisci e facciamo la verifica al gioco momento a me non me lo fa fare perché devo fare un aggiornamento quindi se vai su gestisci qui c'è scritto verifica i file e quindi io mi metto a fare l'aggiornamento su fortnite ok una volta fatto andiamo direttamente su avvia e vediamo se fortnite si avvia assieme all'easy anti cheat se no in questo caso se non dovesse andare possiamo sempre andare su servizi scendo fino a giù fino a trovare così l'easy anti cheat questo qua l'easy anti cheat o l'easy anti cheat di epic online l'easy anti cheat e fai avvia alcuni servizi restano automaticamente se non sono utilizzati da altri servizi o programmi quindi bisogna prima avviare fortnite e vedere se possiamo avviarlo qua sopra ed ecco che fortnite si è avviato senza nessun problema quindi se questo video ti è stato utilissimo siccome risolve il problema riguardo all'easy anti cheat che viene bloccato dall'antivirus oppure non si apre proprio iscriviti lascia like per altri problemi ancora commenta sotto il video oppure guarda i video nelle schede che ti ho lasciato in alto a destra proprio qua nelle schede grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao